Salve a tutti, oggi vi parlerò di queste nuove applicazioni a cui sto lavorando. Al momento è disponibile soltanto questa parte iniziale dell'autenticazione e registrazione degli utenti, che può venire solo da parte degli amministratori. Al momento sono disponibili soltanto queste poche opzioni. Andiamo nella pagina degli utenti e si presenta come una griglia, dove vengono mostrati i vari utenti, con dei campi su cui è possibile effettuare dei filtri. Ad esempio, cliccando proprio all'interno di una cella, possiamo impostare il filtro per lo stato, mostrerà soltanto quelli che si trovano nello stato OK, cioè operativi, e l'intera colonna si nasconde. Possiamo attivare anche un filtro sull'abilitazione, ad esempio mostra soltanto gli amministratori e che sia in stato OK. In quel caso entrambe le colonne si nascondono e mostrerà soltanto gli amministratori. Possiamo riannullare i filtri. Oppure ancora possiamo cercare qui per nickname, in questo caso mostrerà soltanto il rigo che risponde al criterio. Lo stesso per quanto riguarda i nomi. E per ogni utente ancora mostra quante connessioni sono state fatte, da quanto tempo l'ultima. Vedete che se aggiorno, qui cambia, da quanto tempo siete inseriti, quante interazioni sono state fatte, in che pagina si trova al momento quest'utente, e per gli altri ad esempio non mostra nulla perché non sono connessi, e quante allarmi sulla sicurezza sono eventualmente scattati. È prevista la paginazione, al momento ovviamente non mostra nulla perché non ci sono altri utenti. L'amministratore quindi potrà creare dei nuovi utenti, basta cliccare su nuovo, il nuovo utente avrà una password provvisoria, sarà, inizialmente avrà abilitazione come semplice utente, basta scegliere un nickname e dargli un nominativo. E quindi viene inserito, la pagina si aggiorna, da quel momento è possibile anche cambiare l'abilitazione. Ma questo lo vediamo dopo. Per gli utenti già presenti invece, è possibile, sono disponibili questi altri comandi, appunto, il cambio stato, quindi posso sospendere espressamente un utente e non potrà più autenticarsi, qualora fosse autenticato in quel momento verrebbe disconnesso. Possiamo promuoverlo ad amministratore, cambiargli il nickname, che ovviamente dovrà essere univoco, o il nome. Per ogni utente è possibile disporre il reset della password, in questo caso diventerà sempre una password provvisoria, come la prima registrazione. L'amministratore potrà vedere da quanto tempo è stato inserito, quanti sono gli ultimi tentativi falliti, perché è possibile accedere entro massimo 20 tentativi falliti. E attualmente dice che non è connesso, qui direbbe in quale pagina, da quanto tempo, quante interazioni, eccetera, o quanti allarmi. È possibile anche rimuovere del tutto un utente dopo quest'altra conferma, ma eventualmente lo vediamo dopo. È disponibile un'ulteriore limitazione all'accesso, e cioè potrà avvenire soltanto nei browser abilitati dall'amministratore. Basta semplicemente cliccare qui, dare il colon ferma, e da quel momento gli utenti potranno anche accedere tramite questo browser. Ok, facciamo una prova. Proveremo con l'utente Chiara, quindi ci disconnettiamo. Proviamo ad accedere a nome di Chiara. E come vedete ci fa entrare, però essendo un normale utente non è disponibile la pagina utenti, che come vedete non si apre. Proviamo a tornare un attimo come amministratori, e proviamo a disabilitare il browser. Disabilitiamo. Sei sicuro di voler negare l'accesso? Sì. In questo caso è stato disabilitato. Se ora proviamo a entrare a nome di Chiara, come vedete non si può più accedere. Vediamo adesso invece il recupero password. Entriamo come amministratori. Andiamo ad esempio per l'utente Chiara, e disponiamo appunto il reset password. Sei sicuro di voler resettare? Sì. In questo caso verrà impostata una password provvisoria. Qui, come vedete, lo stato dell'utente Chiara è diventato appunto il cambio password, in attesa di cambio password, di personalizzazione. Ci disconnettiamo come amministratori, e adesso proviamo a entrare a nome di Chiara, che non sarà più la password precedente. Password errata. Ma questa nuova password è provvisoria. In questo caso, lui permette l'accesso solo alla pagina con cui cambiare la password. E' disponibile soltanto questa. Come vedete, la pagina iniziale non si era aperta. Vedi, qualunque accesso va sempre lì. Quindi chiede la password attuale, e una nuova. I due campi password non coincidono. Ovviamente qui va ripetuta due volte. Adesso che è stata memorizzata, ci butta fuori per poterla utilizzare, verificare. Ed ecco che siamo rientrati. Pagina iniziale. Vi ripeto che Chiara non è abilitata a accedere alla pagina utenti, ma come vedete l'accesso è avvenuto correttamente. Grazie.